una gioia grande fatta a fiore con 334 diamanti e 80 smeraldi grossi così gli antichi inventari dei beni del convento dei frati carmelitani descrivono questo preziosissimo gioiello in oro un intreccio di quattro tulipani fermati da un nastro che fu donato nel 1696 alla Madonna di Trapani e quale dono più degno per il venerato simulacro di Maria del preziosissimo tulipano simbolo della grazia e dell'amore divino il fiore importato dall'impero ottomano nel secondo cinquecento e richiestissimo da tutte le corti europee e i buoni frati che annotavano scrupolosamente e non senza una punta di orgoglio i nomi altisonanti dei donatori illustri non mancarono di annotare che il prezioso monile ispirato alle forme della natura era stato donato alla vergine da Isabelle Maria Gomez duchessa di Uzeida moglie del vicere spagnolo Giovanni Francesco Paceco l'anno precedente la duchessa aveva donato un monile molto simile a questo alla Madonna della Lettera nella cattedrale di Messina quasi a non voler far torto ad alcuna sacra immagine si trattava probabilmente di due preziosi ex voto chissà forse un rendimento di grazie per la nascita del quintogenito Melchior nato nel 1695 a Palermo questo delizioso intreccio di fiori smeraldini legati insieme da un fiocco dalle forme sinuose ed eleganti usciva dunque dalla raffinata corte della duchessa Uzeida e del vicere Francesco Paceco entrambi i cultori delle arti e della musica proprietari di una ricchissima biblioteca che includeva migliaia di volumi e di una quadreria dove pare figurassero opere di Mantegna Tintoretto Guidoreni, Caravaggio. Il colto vicere poteva inoltre vantare una certa familiarità con il celebre architetto palermitano Giacomo Amato al quale era solito commissionare ambiziosi progetti per scenografie e costumi teatrali, macchine sceniche, apparati effimeri, mobili ma anche imponenti opere di orificeria che erano spesso il frutto di sue felici ideazioni. Insomma dietro questo piccolo oggetto si celano i lussi e gli splendori di corte del viceregno spagnolo con i suoi spettacoli sfarzosi, le cerimonie civili e religiose e le sue grandiose feste di piazza capaci di trasformare la città in un grande teatro urbano. Grazie a tutti! Grazie a tutti!